Di vieto di botti e fuochi pirotecnici all'ultimo dell'anno, di vieto di celebrare come nel passato il cenone di San Silvestro con tante persone per festeggiare il passaggio al nuovo anno, di vieto di aggiungere posti a tavola nell'ultimo giorno di questo memorabile funesto anno 2020. Di rosso quest'anno per Capodanno c'è su tutto la zona rossa che da oggi e fino al prossimo 3 gennaio, vieta spostamenti ad eccezione dei rinomati motivi di necessità, lavoro e salute che vanno indicati nell'autocertificazione. Resta sempre ammesso il rientro nella propria residenza così come resta consentito andare a far visita ad amici e parenti, al massimo due persone al netto di figli minori di 14 anni, disabili o soggetti non autosufficienti e comunque una sola volta al giorno dalle 5 alle 22, ma nella notte di San Silvestro il coprifuoco sarà un po' più lungo, inizierà alle 22 del 31 dicembre per esaurirsi alle 7 del primo gennaio. Tra i limiti dettati per contrastare il covid in primis sono vietati balli, brindisi e abbracci, mentre un'apposita ordinanza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, come quella di tanti sindaci della provincia, vieta i fuochi d'artificio e mortaretti nella notte di Capodanno. Un divieto assoluto nel periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio su tutto il territorio comunale, in luoghi sia pubblici che privati. A rivolgere un invito e una raccomandazione ad evitare nella notte di San Silvestro di utilizzare fuochi d'artificio è stato in primis il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che nel rivolgere a tutti gli auguri affettuosi di buon anno ha colto l'occasione per ricordare Ancona una volta quanto sia importante ancora di più in questi giorni osservare comportamenti irresponsabili. È un appello, ha detto De Luca, che ripetiamo tutti gli anni a salvaguardia dell'incolumità personale di tutti, ma è ancora più importante in questi giorni in cui gli ospedali sono impegnati nelle attività legate all'epidemia covid. Un appello alla responsabilità che giunge anche dal sindaco della città di Salerno Vincenzo Napoli che sintetizza il suo augurio per il nuovo anno nell'auspicio di guardare al futuro con ottimismo e coerenza. Ancora una volta, veramente, io prego i miei concittadini di capire che siamo in una situazione epocale, epocale, lo diceva lei prima, il covid ha sconvolto radicalmente le nostre vite, basta vedere come siamo concertati insomma, questo è solamente un segno esteriore di una complessità abissale molto profonda e che quindi molti parametri che per il passato guidavano in qualche modo le nostre considerazioni, i nostri gesti vanno decatendo, sono decaduti. Ci dobbiamo immaginare un futuro, noi abbiamo una speranza di futuro, lo faremo con l'impegno che svolgiamo a favore delle collettività amministrate, lo faremo con onore e con spirito costruttivo. Ci aspettiamo che da parte di ciascuno e di tutti ci sia un comportamento responsabile. Avendo comportamenti responsabili e semplici si potranno evitare ulteriori tragedie, ulteriori sciagure, sapendo che oltretutto siamo arrivati al vaccino, insomma, quindi sarebbe un peccato depauperare quanto è stato fatto con qualche gesto sconsiderato. L'anno si apre già con tutta una serie di impegni, si guarda alla riapertura delle scuole, si guarda alla ripresa economica, molte saracinesche probabilmente resteranno abbassate, la situazione economica è quello che è e c'è il virus che incombe e che dopo queste festività potrebbe far preoccupare ancora di più con la terza ondata. E' questo che dicevo prima, noi non possiamo mettere in forse un'azione vaccinale che dovrà dispiegarsi a tutto campo, mettere in discussione con atteggiamenti e con comportamenti sbagliati. Sarebbe un atto folle, perché questa occasione non ce la restituisce più nessuno. Noi dobbiamo fare in modo che anche riprenda rapidamente un minimo di vita ordinate, normale sarebbe per dire, proprio normale, per fare in modo che si risarciscano i danni avuti, che ci siano, io spero che il governo provvederà anche a questo, che le ferite aperte possano essere suturate, bisogna fare in modo quindi che si guardi al futuro con ottimismo ma anche con concretezza. I nostri atti dovranno essere spesi per un rilancio della città, abbiamo avuto dei colloqui con l'associazione dei commercianti, con l'associazione degli albergatori, altri ne avremo per capire insieme quale può essere una linea di condotta che nessuno c'è in tasca. Deve essere frutto di un ragionamento collettivo che veda impegnati tutti in una logica costruttiva e concreta per il rilancio della città.